L'anno scorso, quando sono stati convocati i presidenti di regione, l'ipotesi era di una distribuzione concordata e condivisa, non concordata, con le regioni, nel caso però si fossero stanziate, fossero state stanziate le risorse adeguate. Poiché il governo non solo non ha stanziato le risorse, ha ulteriormente tagliato il fondo sanità, ha tagliato i trasferimenti, l'accordo non è stato sottoscritto. Poi, se i presidenti di regione del PD li vogliono accogliere, liberissimi di accogliere, mi perdoni, la Serracchiani però, che non è proprio l'ultima del PD, ad aprile dichiarava che non ne poteva ospitare più. Poi, che per una questione di campagna elettorale poi abbia cambiato idea, va bene, ma ci vedete i vostri sindaci.